Un grande Paese che ha tutto quello che serve per superare le difficoltà che la storia ci mette di nuovo davanti. Il Governo ha fatto del proprio meglio per rispondere con prontezza alle esigenze degli italiani, per compiere tutte le scelte necessarie con indipendenza di giudizio, per mantenere alta la credibilità di fronte ai cittadini e ai partner internazionali e per cercare sempre l'unità di intenti, il dialogo, la coesione sociale. Questo è stato il nostro metodo di lavoro. Tra poche settimane gli italiani sceglieranno la composizione del nuovo Parlamento che darà la fiducia a un nuovo Governo sulla base di un nuovo programma e a questo proposito invito tutti ad andare a votare.